Il circuito Abrex e Delta Defense scendono in campo con l'obiettivo di offrire alle donne che subiscono violenza una serie di servizi gratuiti che vanno dall'assistenza legale all'assistenza psicologica e ad altri servizi necessari, oltre che una serie di strumenti strategici e operativi volti alla prevenzione del fenomeno. Il progetto è stato presentato in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra domani. La Delta Defense era già socia di Abrex e confrontandosi proprio con i membri del direttivo siamo riusciti a sviluppare dei progetti che erano già in essere ma non riuscivamo completamente a concretizzare. Per cui in questa giornata non potevamo mancare all'appello del 25 novembre, tra l'altro ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anzi per la precisione per l'eliminazione della violenza sulle donne. dato purtroppo in crescita, incentivato anche da questo lockdown, il sole 24 ore riporta addirittura una triplicazione delle aggressioni, soprattutto in ambito domestico. E' dato che noi confermiamo sulle nostre province e la nostra regione. Quindi ora più che mai ci vuole un'azione importante da parte di tutte le istituzioni che già sono presenti, fanno ciò che possono, associazioni di volontari, ma anche professionisti. Diciamo che il binomio Delta-Abrex consente a liberi professionisti di poter svolgere la loro professionalità in maniera totalmente gratuita per quanto riguarda la vittima, che può chiedere una consulenza oppure anche solo semplicemente farsi seguire per tutto il percorso, confrontarsi e vedere quelle che sono le potenzialità. e per il professionista Abrex ci ha permesso di costituire un fondo alimentato da Abrex attraverso il quale poi i professionisti riusciranno a essere anche compensati per il loro lavoro. Per quella che è l'etica che contraddistingue il circuito di credito commerciale Abrex, l'economia deve porsi al servizio delle persone. E in questo caso Abrex si pone al servizio delle persone che hanno bisogno, che però non riescono a soddisfare purtroppo quella che è una necessità e quindi una richiesta di aiuto. E in questo caso Abrex si pone al servizio di quelle donne che molte volte non hanno la possibilità di potersi pagare concretamente un avvocato per portare avanti una propria causa o per avere fatta giustizia o comunque avere a disposizione un aiuto psicologico che le possa supportare in tutto quello che è il percorso di rinascita dopo aver subito una violenza.